Bene, dunque ci siamo un po' divisi gli interventi sia in senso storico che in senso anche metodologico e di pensiero non solo sulla cabina per fototessere ma anche per il selfie che naturalmente è un fenomeno di massa talmente invadente che non potevamo impedire che questo argomento toccasse anche la nostra giornata. Per quanto mi riguarda mi sono riservata un pezzo di preistoria della fototessera ovvero di come dentro alle esperienze che facciamo dagli anni venti nella cabina per fototessera si innestino delle tendenze della fotografia automatica che hanno delle radici ottocentesche. Molto brevemente i prototipi di quella che è diventata poi la cabina per fototessera negli anni venti sono già ottocenteschi. Vengono definiti dei carri fotografici, erano un po' dei baracconi complessi che già producevano quella che le storie chiamano una autofotografia. Quindi questo concetto di autofotografarsi, di autorappresentarsi era già dentro alle idee e alle esperienze di chi studiava un modo per rendere il ritratto fotografico sempre più automatico e quindi ovviamente il ruolo dell'artista, dell'autore in senso classico sempre meno presente. Cioè la macchina che deve parlare da sé, la macchina che deve lavorare da sé. E ovviamente qui le fascinazioni letterarie e cinematografiche su questo tema si potrebbero sprecare. Tra i modelli più famosi dell'Ottocento, più o meno stiamo parlando del 1889, del 1890, si ricorda l'Enjalbert e il prototipo Bosco che realizzavano delle immagini dirette e positive, quindi come i daguerrotipi ottocenteschi, su piccole lastrine di ferro, come dei ferrotipi. Quindi un oggetto veramente affascinante. Erano prototipi con grandi problemi tecnici, che gli amici della Deden possono capire anche dopo tanto tempo. Spesso si inceppava il meccanismo, spesso doveva intervenire qualcuno per cambiare le sostanze, ma insomma erano i primi passi verso questo dominio della macchina che dicevamo prima. Poi a grandi passi si arriva appunto a quella che viene considerata davvero la prima fotomatone, perché con questo nome appunto viene conosciuta fin da subito. Cioè di questo signore siberiano, Giosefo, che nel 1924 brevetta il primo prototipo di cabina per fototessera, che entra nel mercato americano nel 1926 e poi negli anni successivi in Europa le prime macchine europee vengono posizionate a Parigi proprio in quei non luoghi che dicevamo prima, i giardini, l'orto botanico, il Luna Park, cioè quegli spazi in cui si immaginava che ci fosse non solo un'esigenza di ritrarsi, ma una vocazione anche al divertimento in quel caso, all'utilizzo della fotografia come evasione e questa è un'idea molto interessante. Schermata così di curiosità di un volume che conosce bene anche Franco, è Photobooth di Babette Hine, una collezionista americana che ha raccolto un patrimonio inestimabile di piccole fototessera, perché evidentemente la fototessera diventa subito un fenomeno sociale, un fenomeno culturale, l'idea finalmente di ritrarsi autonomamente dentro un meccanismo autonomo, isolato, senza bisogno dell'autore, senza bisogno del fotografo, è qualcosa che sollecita subito la fantasia delle persone. Però mi è piaciuto, anche se in modo un po' scioccante, mettere questa slide, perché vedrete che quella successiva invece ci riporta a una storia lontanissima, proprio per forzare l'idea che stiamo parlando di qualche cosa che non è solo la storia di un dispositivo, la storia di un brevetto, ma è una storia che abbraccia tante diramazioni della fotografia tutta e non solo dell'idea di ritrarsi in generale, perché la moda, prima anche Alessandro Lama ce lo ricordava, ha avuto un grande interesse, continua ad avere un grande interesse verso questo apparecchio e le sue possibilità. In questa schermata ci sono immagini, diciamo, da redazionale, anonimo, ci sono grandi autori, sulla destra, in alto, è una quartina, è un lavoro famoso di Helmut Newton per Loren Steele, questo in basso a sinistra è Jürgen Teller, altro famoso fotografo, in una bellissima pubblicità per Helmut Lang, in cima tutti avrete riconosciuto Oliviero Toscani con la campagna Faces del 97. Questo per dire che l'idea di ritrarsi e di ritrarsi in una modalità che possiamo chiamare appunto formato tessera non finisce con la storia della cabina in senso stretto, ma contamina tanti territori dell'arte, della moda, dell'industria culturale, come appunto la moda. Scusate, ecco. Ma appunto, come vi dicevo, per cercare di, vedo già che mi guardano l'orologio, per cui mi preoccupo, no, per cercare di raccontarvi all'indietro che cosa ci può stare dentro anche a una schermata come questa così moderna, no, della moda e dell'industria culturale, addirittura si può risalire per un lato a una scienza antichissima, addirittura si dice che la conoscesse, la studiasse Aristotele, che è la fisiognomica, cioè una disciplina che studiava i tratti del volto e come i tratti del volto raccontavano le passioni umane o possiamo anche dire come siamo, in senso visivo, come appariamo, racconta la nostra psiche, quindi un argomento ovviamente molto particolare, molto delicato. Leonardo, i grandi artisti, erano appassionati di fisiognomica, naturalmente, perché la loro capacità di rendere i caratteri delle persone, gli umori, gli atteggiamenti, doveva passare per quello che avevano, cioè per la matita, la sanguigna e il carboncino. Questa disciplina, la fisiognomica, ha un grande successo non solo nella scienza, ma anche nell'arte, appunto, in questo caso si sottolineava come certe caratteristiche tipiche di certi animali vengono assorbite dagli stessi tratti del volto, o per dire in un altro modo, una persona che ha una certa inclinazione caratteriale, può essere che sia tipica di un tipo animale e da cui le somiglianze anche visive. La fotografia arriva, come dire, a gamba tesa in questi studi, quindi la fisiognomica ha una storia lunghissima che, dicevo, arriva da Aristotele fino alla fotografia, perché nel momento in cui la fotografia offre, dal 1839 in modo ufficiale in poi, alla scienza e all'arte una macchina, una macchina che duplica la realtà, senza bisogno dell'interpretazione della mano, dell'abilità di un singolo artista, evidentemente è un appoggio, è un ruolo, è un utilizzo fondamentale. Da questo momento in poi non è un caso che si smette di parlare di fisiognomica, ma nascono delle discipline profondamente imbevute di quelle idee, cioè della corrispondenza stretta tra come appariamo e come siamo di carattere. Per esempio la criminologia, per esempio la psichiatria, la frenologia, gli studi coloniali. La fotografia quindi viene utilizzata in campo medico, anzitutto, e qui è un esempio di questo medico francese, Guillaume Duchesne de Boulogne, per studiare le smorfie dei volti, come degli elettrodi che facevano scariche elettriche al volto provocavano nei pazienti delle smorfie, delle contrazioni visive, che naturalmente venivano fotografate. Ma dalla medicina, la psichiatria, la frenologia, il passo è molto breve. Subito, non è ancora chiamabile, definibile psichiatria, ma certamente frenologia sì, subito grandi scienziati, come per esempio Charcot, il medico della Salpetriere, che conia il termine, studia per primo l'isteria femminile, capiscono che la fotografia è un'alleata incredibile. Naturalmente a noi interessa un certo tipo di fotografia, che doveva indagare il volto, e ciò che il volto poteva raccontare di una persona. Quindi, fin da subito, i grandi ospedali, soprattutto con i reparti frenologici, psichiatrici, la Salpetriere a Parigi, in Italia è molto ricco, in questo caso è proprio il territorio emiliano, Reggio Emilia, ma anche Venezia, San Servole, San Clemente, i famosi manicomi ottocenteschi, si dotano di gabinetti fotografici, dove i pazienti venivano schedati al loro ingresso, ma anche sollecitati a performare di fronte alla cabina durante gli attacchi, per esempio, isterici. Questo è il frontespizzo dello studio dell'isteria di Freud, che frequentò proprio le lezioni di Charcot e che dedica questo volume sull'isteria. Una tabella di un frenocomio italiano, il San Clemente di Venezia. Le donne vengono schedate, il loro volto deve raccontare le loro storie. Dietro c'è ancora la fisionomica. Naturalmente non ci possiamo dilungare, siamo nella seconda metà dell'Ottocente, in un clima di positivismo, di determinismo, di idea che la scienza può conoscere, prevenire tutti gli aspetti della vita umana. In Italia, in particolar modo, c'è una scuola fondamentale che è quella di Cesare Lombroso, notoriamente. Lombroso è il primo che studia, che intuisce le potenzialità della fotografia a questo livello, istituirà la prima cattedra di antropologia criminale ed è un po' lo scienziato, l'intellettuale, le cui idee poi porteranno alla nascita della prima polizia scientifica italiana. Lombroso comincia ad archiviare foto di volti, creando degli album che poi venivano diffusi e quindi diffondendo l'idea di questa mega schedatura della tipologia umana. Naturalmente, nel suo caso, anzitutto patologica, ma come capite poi il nesso delinquenziale è molto vicino. Da Lombroso in Italia e da Bertillon in Francia nasce infatti l'utilizzo della fotografia formato tessera a livello criminologico, delinquenziale. Si creano delle tabelle parlanti, questa definizione è bellissima, dei ritratti parlanti, è una definizione perfetta, cioè dice questa casistica di nasi, di fronti, di occhi, ti deve già dire a chi ti trovi di fronte, che famiglia di reati, che famiglia di psicosi, che famiglia di ossessioni riguarda la persona che hai davanti. Sono gli anni in cui nasce, nella scuola francese di Bertillon, che era questo capo della polizia francese, il Bertillonage, cioè l'identikit poliziesco fronte e profilo. Ovviamente è l'ansia del controllo dell'ordine sociale. La fotografia serve, l'ordine costituito, per incasellare le persone, per schedarle. Sono gli anni in cui nasce proprio l'idea della, diciamo, in nuce, della carta d'identità, di un documento che deve accompagnarci sempre. Poi, nei primi anni del Novecento, ci sarà anche l'impronta digitale come ulteriore traccia, come quella fotografica, della nostra identità, oltre le misure antropometriche, cranio, altezza, eccetera, eccetera. In Italia, Umberto Ellero e Salvatore Ottolenghi sono gli scienziati e poi poliziotti che impostano a livello nazionale la scuola di Bertillon, cioè l'idea della segnaletica dell'identikit poliziesco. Questa è una curiosità. Le schede segnaletiche di Stalin e di Gramsci è ovvio che questa vicenda ha delle implicazioni non solo culturali e sociali ma anche profondamente politiche. Profondamente politiche, tragicamente storiche, le carte d'identità di ebrei marchiati per essere riconosciuti quando dovevano presentarsi, quindi la carta d'identità che doveva dire ovviamente anche la stirpe ebraica. Il terzo e ultimo dei filoni, cioè quello medico, quello psichiatrico, quello criminologico, quello antropologico, vedo l'ansia degli orologi, il terzo è quello antropologico coloniale che però se vedete è assolutamente omologo a quello delinquenziale e a quello psichiatrico. Cioè è l'ansia di un mondo, in questo caso quello delle potenze coloniali, la Gran Bretagna, in primis di affermare una volontà e una conoscenza, in questo caso verso gli indigeni, verso le popolazioni che venivano civilizzate dalle potenze coloniali. e quindi il povero aborigeno sud-australiano riceveva una grande opera di civilizzazione se veniva schedato, misurato, guardato, squadernato da tutti i lati e questo è un metodo proprio che la Gran Bretagna esporta di Thomas Henry Axley. Come vedete l'idea dell'identikit poliziesco della scheda frenologica rimane. il fronte e il profilo combinati insieme raccontano tutto di noi, tutte le nostre emergenze fisiognomiche devono essere raccontate da questa combinazione di fronte e di profilo. Questa è una prima parte della storia, la seconda parte della storia che magari i colleghi mi segnalano perché ho perso ovviamente il conto di quando ho iniziato e la seconda parte della storia che è la seconda parte della storia della cabina per fototesta di quello che diventerà la cabina per fototessera è un altro splendido brevetto quindi il primo è scientifico archivistico burocratico tassonomico la seconda parte invece è un brevetto parigino di Sdery forse non l'ha neanche inventato lui ma era un bravo imprenditore e arriva al brevetto nel 1854 brevetta questo apparecchio che semplicemente molto semplicemente aveva la capacità di scattare in sincrono o a breve distanza l'uno dall'altro dopo aver dato un input meccanico degli scatti in sequenza la fotografia nasce più povera del ritratto ma non proprio poverissima all'inizio per farsi un ritratto da Nadar che era il famoso ritrattista parigino ci volevano 100 franchi per ottenere una carte de visite ce ne volevano 20 di franchi perché la lastra sulla quale venivano impresse le 6-8 piccole fotografie era naturalmente sempre la stessa quindi invece che avere un ritratto e c'era dimensione io avevo un ritrattino di circa 8 per 10 centimetri che poi veniva attaccato a un cartoncino e magari dietro ci si metteva il nome dell'atelier o il nome del professionista cioè la nascita della carta da visita infatti il brevetto forse non ho ancora detto si chiama la carte de visite cioè nasce l'idea del presentarsi fotograficamente quindi tenete mente a questa cosa è semplicemente un brevetto che dà la possibilità di fare degli scatti con un input dato all'inizio la gente fa dei ritratti molto classici molto standardizzati in posa rituali sono le foto di chi deve andare a militare e quindi si fa ritrarre magari con la divisa oppure sono ritratti in cui ci si appoggia a delle balaustre come succedeva negli atelier dei pittori per assumere delle posizioni stabili e non rischiare di magari di far venire mossa la fotografia ma a un certo punto succede qualcosa di strano che lo stesso Disdery lascia scritto nelle sue memorie dispiaciutissimo disperato Disdery dice io non riesco a capire perché da me la gente assume degli atteggiamenti strani mi fa delle richieste che io non capisco vengono qua con dei crocifissi e mi chiedono di fare Maria Stuarda vengono con dei pantaloni alla Zuava siamo parlando degli anni 50 dell'800 e mi chiedono di fotografarlo su uno sfondo simil giungla lui avrebbe voluto fare il ritrattista serio alla Nadar con l'aura del grande fotografo le luci l'atteggiamento impostato i collaboratori invece la gente percepisce che sta succedendo qualcosa di strano di fronte a quella macchina capisce che quella macchina lascia pochissima margine a Disdery lascia quasi nessun margine a Disdery che diventa un servomeccanismo della fotografia lui aziona ma la macchina lavora da sé l'autore sparisce ed emerge l'estetico tecnologico come ha raccontato bene anche Franco sulla scia di grandi autori come Benjamin e altri emerge quell'idea di poter performare di fronte a un obiettivo spietato che non ti lascia margine di decisione come nelle cabine per fototessere ad Edem e lì te la giochi come viene viene non c'è un autore che decide per te è quell'illusione splendidamente descritta anche da Francesca Linovi in un suo scritto ormai di quasi 40 anni fa che racconta come la carte de visite è la parte della cabina per fototessera in cui la gente capisce che la macchina dà lo stimolo a nascondersi a vivere le vite altrui a demistificarsi a travestirsi insomma ad essere altro è quella scia della irrazionalità della fotografia del nostro modo di recitare che si combina perfettamente ancora oggi nella cabina per fototessera quindi chiudendo il mio intervento e sintetizzando spero non troppo velocemente queste due idee nella cabina per fototessera e oggi noi ancora ritroviamo due idee della fotografia dell'ottocento che stavano nell'idea di ritrarsi in un modo severissimo perché a scopo scientifico burocratico e archivistico ma dall'altro lato per sperimentare quell'evasione di realtà che solo la macchina ci può dare con tale forza e impulso di fascinazione grazie 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 grazie